Wookiee World WK800X Quando l'ho preso e mano e l'acceso mi sono venuti in mente subito Picasso, Van Gogh e Leonardo Mi sono chiesto chi sa quando avrebbero pagato loro per avere delle cornici così grandi per i loro quadri Praticamente abbiamo un telefono che è tutta cornice Sapete che c'è? Io lo tengo, magari fra cent'anni? Vale quanto la gioconda, speriamo! Ben ritrovati qui su Mechitech Siamo pronti quindi a fare la recensione del Wookiee World WK800X Mi sento un po' come se fosse un esperto di quadri Perché praticamente con questa cornice potrebbe essere presa il muro senza alcun tipo di problema E non farebbe poi una brutta figura Che belle cornici Ma prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale Lasciate un bel pollice alto e condividete il link di questo video con i vostri amici Per far conoscere Mechitech Eh sì, WK-Wall, WK800X Praticamente si sono creduti degli artisti E hanno voluto fare praticamente un telefono a forma di quadro Con delle cornici come vedremo impressionanti Vado ad accenderlo Abbiamo una larghezza di 71 mm Per un'altezza di 146 mm Lo spessore di 7.9 mm Un peso di 160 grammi Che tutto sommato in mano si fanno sentire tutti Quindi non è poi così leggero In mano si tiene comunque bene Grazie al fatto che è fatto tutto di plastica Quindi il grip è molto buono È leggermente stondato ai lati Quindi aiuta sicuramente questo l'impugnatura La dimensione del display non è esagerata 5 pollici anche se poi vanno tirate via tutte le cornici Una, due, non so se ne mettiamo magari un'altra per fare tre E non se ne parla più Incredibile come vedremo queste cornici Anzi ve l'ho fatto già vedere perché il telefono è partito Quindi a partire non è lentissimo E questa è l'unica cosa positiva che ha questo telefono praticamente Abbiamo la cornice esterna grigia Abbiamo poi questa bella corniciona nera Massiccia, alla grande E finalmente abbiamo il display Ma ragazzi non è tutto perché i tasti come potete vedere Non sono nella scocca Ma sono stati messi a display Quindi abbiamo tutto questo spazio praticamente inutile Tra l'altro il tasto home è un clone di questo tasto soft touch Tasto fisico e tasto soft touch Quindi non ha praticamente alcun senso Questa scelta fatta da VKIVOR di mettere Tasti soft touch all'interno del display Cornice enorme E poi sotto il tasto fisico Che è praticamente una copia del tasto soft touch home Incredibile Non ho proprio capito la scelta di questa casa costruttrice Sul lato sinistro non abbiamo praticamente nulla Se non fosse cornici No ragazzi qui almeno cornici non ce ne sono Sotto abbiamo la micro usb con il microfono Lato destro bilanciare il volume Che vedete è diviso con due tasti Quindi bilanciare il volume su Bilanciare il volume giù Quindi per alzare e abbassare il volume Tasto accesso e spegnimento Tra l'altro vedete i tasti sono abbastanza uguali Quindi quando li andrete a toccare col dito Non saprete bene quale dei tre state toccando Sopra abbiamo il jack delle cuffie da 3,5 E non abbiamo altro Dietro abbiamo la fotocamera da 5 megapixel Interpolata a 8 megapixel Con autofocus e flash light Vabbè ragazzi diciamo che c'è Ma mettiamoci pure un X sopra Praticamente come se non ci fosse Se risparmiavano anche questi soldi Per mettere questa fotocamera Praticamente inutile E magari tirano gli altri 10-15 euro Al prezzo di questo telefono Sarebbe stato molto meglio Abbiamo poi il logo della VKIVOR Non abbiamo praticamente nient'altro Poi come vedete abbiamo questa zigrinatura Della cover posteriore Che devo dire non mi è affatto dispiaciuta Diciamo che è una delle cose Sicuramente positive di questo telefono E in mano è leggermente ruvida Quindi aiuta anche a tenere un po' più solida L'impugnatura del telefono Davanti abbiamo la fotocamera da 2 megapixel Che interpolate arriverà fino a 5 megapixel Abbiamo poi il flash LED Praticamente inutile E abbiamo qua dentro i sensori di prossimità Nelle specifiche parlano anche di sensore di luminosità Ragazzi io non l'ho trovato E secondo me non ha il sensore di luminosità a bordo Questo telefono Tant'è che non c'è neanche la luminosità adattiva Tra l'altro Tra le altre cose Altra difetto che possiamo trovare questo telefono Sotto abbiamo l'altoparlante di sistema Che anche qui come sentiremo non è un granché Questa griglietta è finita Non c'è assolutamente niente Come abbiamo detto questo è un tasto home Che è anche uno specchio per le allodole Quindi ragazzi mi raccomando Non fatevi ingannare Non fatevi attrarre dallo specchio Fa veramente pena Quindi lasciate stare lo specchietto Dimenticatevene E andiamo a vedere cosa muove adesso questo telefono Vediamo se si sblocca Perché avete visto Ha fatto fatica già a sbloccarsi Andiamo a vedere cosa muove questo O meglio Cosa prova a muovere questo telefono Abbiamo un Sock Mediatek Da 580 A quad core 1.3 GHz Con la Mali 400 MP Quindi classico Sock per telefoni Di questa fascia di prezzo Abbiamo poi Android Lollipod 5.1 a bordo 1 GB di RAM 8 GB di ROM interna E' espandibile fino a 64 GB Abbiamo poi il Wi-Fi BGN Ovviamente non c'è il 5 GHz GPS a GPS Bluetooth 4.0 E praticamente non abbiamo altro La batteria è da 2200 mAh Per ora vi porterà a coprire a stento Una giornata Diciamo che partendo Dalle 8 in mattina arriverete Verso le 5 Già con il bisogno di attivare I risparmi energetici Inattivi di Android Lollipod 5.1 Quindi diciamo Neanche da questo punto di vista Il telefono può essere salvato La fotocamera non ve la faccio neanche vedere Guarda è veramente penosa Vi faccio magari vedere però le foto che ho scattato Giusto per farvi rendere conto Di quanto male vada questa fotocamera Andiamo a vedere subito una foto fatta al buio Dentro casa vedete che è sfocata Ragazzi praticamente è completamente inutile Il nostro loncino sta piangendo disperato Perché ha i cappelli tutti arruffati Vedete non è praticamente nitida la foto Tutti questi peletti sono tutti sfocati Abbiamo poi una foto fatta senza HDR Una foto fatta con HDR Ma entrambi fanno praticamente pena Anche questa foto fatta con una macro e fiori È riuscita a venire sfocata Quindi non trovo alcuna cosa da salvare a questa fotocamera Addirittura qui fotocamera frontale Faccia disperata ragazzi È stato davvero un supplizio I video fanno altrettanto schifo Se si può dire Diciamo sì ok ragazzi dovrei dirvi sì Però il telefono costa poco Quindi sì è ovvio che fanno schifo Non si può dire altro di una fotocamera di questo tipo Ovviamente riproduce full HD Non riproduce 2K e 4K Ma ci mancherebbe altro D'altronde andiamo a vedere anche il nostro Display però vi faccio vedere la mascotte Di Mekai Tech Nuova entrata in famiglia Guardatela qui che bella rilassata La nostra Milu Incredibile Guardate che posizione scurde Tra l'altro mangia di tutto Non so come faccia Trova qualsiasi cosa per terra E la ingoia come fosse un trita rifiuti Una roba impressionante Andiamo a vedere adesso però il display Questo display di cui vi parlavo poco fa Perché non è nemmeno un HD È un display QHD PS 960x540 Andiamo a vedere come si comporta con i bianchi e con i neri Alziamo la luminosità al massimo Ovviamente dai PS i bianchi non sono male Però vedete già inclinandoli leggermente Tendono subito il grigio Segno che il pannello non è sto granché Ovviamente il prezzo del telefono Ci fa anche capire che il display non può essere sicuramente buono Vedete qui le cornici rispetto al nero Che in realtà è un po' grigetto Insomma display senza infamie Senza lode per il costo del telefono Diciamo che facciamo finta di non averlo visto Qui uno screenshot invece che ho fatto Alla durata della batteria Come vi dicevo Guardate anche di notte praticamente si scarica È un telefono che non si ferma mai È fantastico Probabilmente dovrà pulirsi le cornici Vediamo poi come si comporta nella parte di navigazione Andiamo a caricare il nostro sito di test Corriere.it Ok sta caricando Magari se gli do invio forse parte Richiediamo il sito destro Ok c'è già Vediamo i tempi di caricamento Tra l'altro wifi che va abbastanza bene Vi ricordo è BGN Quindi non c'è supporto Non può dirlo per i 5 GHz Abbiamo poi un 2C, un 3G, niente 4G Che comunque prende il segnale radio Abbastanza bene Tutto sommato nelle zone dove mi sono trovato Non ho mai avuto alcun tipo di problema Nella ricezione Vedete quando ha caricato la pagina Non è neanche poi così male Anche grazie al fatto che il browser renderizza Lentamente le immagini Che vanno a display Quindi lo vedrete leggermente bianco Prima di vedere comparire varie immagini E vari testi Questo aiuta la fluidità Pin to zoom Manco a dirlo Non segue le dita È un po' anchiodato Comunque Diciamo senza infamia Senza lode La navigazione Apriamo la music Tra l'altro anche con chrome Parentesi Non cambia poi molto L'esperienza d'uso Quindi neanche per la navigazione Va bene Sentiamo la music Alziamo il volume al massimo Cassa Questa vi ricordo Diciamo audio piuttosto scarso Alti a manetta Bassi praticamente inesistenti Poi tra l'altro Gracchia anche un po' Cigola un po' Segno che le plastiche vibrano E danno anche un rumore fastidioso In sottofondo Andiamo a fare la nostra telefonata Al 190 Per vedere almeno Il viva voce Come funziona Vi anticipo già Che neanche lì ci siamo Ok 190 Alziamo a manetta Benvenuto in Vodafone I nostri operatori Sono a tua disposizione Esclusivamente Avete sentito Gracchia anche durante L'ascolto in viva voce Delle telefonate Quindi Non è un ottimo audio Per nulla Tra l'altro Anche nella capsula auricolare Non si sente benissimo Quindi non c'è nulla da fare Neanche nel comparto audio Andiamo a vedere adesso Come ci comporta con Real Racing Lo facciamo ragazzi No Prima andiamo a vedere Come si comporta nell'apertura Ad esempio Della gestione delle pagine di Facebook Vediamo i tempi di avvio Ok 1,2,3 1,2,2,2,5,0 Ok ce l'ha fatta Una volta caricata Comunque ancora lenta Vedete che però poi Se gli diamo coraggio Forse bisogna dire Wow che belle cornici Che hai Bellissime cornici VK800X E vedete Quando gli dite che ha belle cornici Lui si Fervola Inizia anche ad andare bene Ragazzi Lasciate perdere Ok Torniamo indietro Andiamo a aprire Real Racing Ci facciamo del male Ma si dai Facciamoci del male Ovviamente adesso Andrò a fare un bel taglio Perché se no Vi tengo qua Tutta notte O tutta mattina In base all'ora In cui andrete a vedere Questo video Ok ce l'ha fatta Si è avviato Andiamo a fare la nostra gara A Laguna Secca Di test Ok andiamo a calibrare Il volante Dai ce la puoi fare Grandissimo Tappiamo un po' Vedete I dettagli sono Praticamente Quasi tutti Abbiamo poi Questa male I 400MP Che grazie al fatto Che era Abbasso un attimo Un po' Il volume Intanto se non mi devo Sgolare Grazie anche al fatto Dicevo Di non avere tantissimi Pixel da muovere Riesce quasi a far girare Real Racing Ovviamente Scattosissimo Guardate Praticamente A livello Di ingiocabilità Tra l'altro Adesso è venuto fuori Anche Questa SMS Vabbè ragazzi Credetemi sulla parola Come avete visto Comunque È abbastanza scattoso È abbastanza Ingiocabile Quindi Sicuramente Non è un telefono Per giocare Questo VK800X Quindi che dire ragazzi Questo telefono Quindi io non lo ricomprerei Anzi Lo lascerei stare lì Nel suo bel sito Lì in alto a destra Non fatevi ingannare Non cliccate Non acquistate Mi raccomando ragazzi Non mi ha convinto Neanche la parte Telefonica Che era poi L'unica parte Importata Per un telefono Da 50 euro Che probabilmente Verrà utilizzato Come secondo telefono E quindi Come telefono Per chiamare solamente Ma se non va Neanche quello Che senso ha Lo chiederemo anche A VKWORD Per questo Intanto Vi sconsiglio L'acquisto Un saluto quindi Da Matteo Per MAKITEC E VKWORD VK800X E che Van Gogh Per MAKITEC Ciao Ukitel K6000 Pro Se siete curiosi anche voi Di vedere come funziona Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un bel pollice alto E condividete Il link di questo video Con i vostri amici Per far conoscere MAKITEC E vi anticipo Che ci sarà presto Il confronto Tra Ukitel K6000 Pro E Ulefon Power